Chi oggi, gli altri lunedì prossimo, le vacanze sono finite o stanno finendo quasi per tutti e chi ha la fortuna di avere un lavoro si appresta a ritornarci. Una ripresa per molti anche con qualche interrogativo in più legato al Green Pass. Il problema oggi è il Green Pass per l'accesso alle mense. Una legislazione confusa che non aveva individuato le mense a nostro modo di vedere inizialmente come luogo dove era necessario il Green Pass, ha poi stabilito in una fa governativa, che però non è un provvedimento di legge, tanto per essere chiari, che nelle mense sia necessario per potervi accesare il Green Pass. Questa è la cosa che noi abbiamo criticato. Una critica questa che non è piaciuta al presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che soltanto alcuni giorni fa dal meeting di Rimini a propria volta ha bollato come un grosso errore che intraccerebbe la ripresa quello dei sindacati rispetto al Green Pass. Zamboni tuttavia non si scompone, anzi. Confindustria sono quelli che hanno fatto le pressioni perché non ci fossero le zone rosse, non venisse chiusa la berca masca quando ce n'era bisogno. Sono quelli che quando non c'erano i DPI si dicevano che non servivano, che non era necessario nella prima fase della pandemia. Oggi c'è un accanimento contro il sindacato, ma che si ripercuote poi anche sui lavoratori, che sono quelli che invece ci hanno consentito e ci hanno garantito tutto quello che ci è stato indispensabile durante la pandemia a rischio della loro incolumità e della loro salute. Un accanimento che potrebbe facilmente sfociare in una situazione ancora più seria. Oggi discriminare sul lavoro quando sono le stesse persone a cui a febbraio dell'anno scorso dicevi che la mascherina non serviva niente, che non la dovevano mettere perché se no si spaventavano i pazienti, perché questo è successo anche nelle nostre case di riposo a febbraio dell'anno scorso, francamente oggi andare a discriminarli sul luogo di lavoro nella mensa diventa complicato. Detto questo, il numero uno della CGL provinciale ribadisce con forza che le mense aziendali non sono ristoranti, con tutto rispetto per chi nei ristoranti lavora naturalmente. Sono tutte monoporzioni, sono tutto sigillato, sono state abolite le carafe di acqua sui tavoli, ci sono distributori con la fotocellula perché se vai lì che li tocchi poi c'è il passaggio, quindi il luogo della mensa aziendale ha un livello di sicurezza che è molto superiore a quello che c'è in qualsiasi ristorante. E rimane quello di non complicare ulteriormente la situazione di un mondo del lavoro dove i problemi sono già macroscopici. Il rischio è che ci siano i colleghi vaccinati che buttino fuori loro i colleghi che non lo sono, in virtù di questa FAQ del governo che crea il problema, quindi non vogliamo portare ulteriori elementi di divisione in un momento nel quale il mondo del lavoro forse, oltre alla pandemia, ha altre tante priorità da portare avanti. I morti sul lavoro hanno ripreso il lavoro, hanno ricominciato a crescere, ora possiamo parlare di sicurezza in termini complessivi e non limitarci al solo Green Pass.